eccoci qua ben ritornati allora oggi parliamo di un altro argomento siamo in italia parliamo delle signorie di cui avevamo già parlato e soprattutto del loro sviluppo le signorie che progressivamente diventano stati regionali vi ricordate che le signorie nascono verso la fine del tredicesimo secolo la prima signoria che nasce è quella di ferrara nel 1264 e poi a seguire tutte le altre è stato un periodo molto caotico per l'italia perché le signorie erano in continuo contrasto e in lotta le une contro le altre tanto che una metafora molto azzeccata descrive quella situazione quella italiana del 300 come vi faccio vedere ora eccolo qua come un mosaico l'italia era descritta come un mosaico e appunto perché ogni città faceva capitolo a sé entrava in contrasto con tutte le altre in una in uno scenario di continui cambiamenti c'è anche da dire però che verso la fine del quattordicesimo secolo quindi tra il 1300 e 1400 questo scenario assolutamente caotico comincia a cambiare le signorie più grandi cominciano a fagocitare le signorie più piccole più deboli e sulla cartina geografica italiana cominciano a configurarsi cinque grandi stati regionali come potete vedere da questa cartina è una tendenza questa all'espansione che è comune a tutta europa perché contemporaneamente anche in francia anche in spagna un po ovunque la frammentazione del potere tipica dei decenni precedenti c'è del passo a una inversione di marcia per secoli il potere si è frammentato il sacro romano impero in tante piccole entità non parliamo dei comuni del nord italia e quant'altro adesso finalmente tra il 1300 e 1400 i frammenti le realtà politiche precedenti più piccole cominciano a fondersi insieme a volte volontariamente molto più spesso invece a causa di guerre o di sconfitte e cominciano a nascere realtà politiche più ampie ecco in italia abbiamo cinque grandi stati e il primo grande stato quello più importante in questo momento eccolo qui è la repubblica di venezia la serenissima repubblica di venezia il simbolo è ovviamente quello di san marco da quando le reliquie del santo vennero trafugate da due mercanti veneziani da alessandria fino a venezia tanto che ancora oggi la basilica di san marco nasce in origine e ancora oggi possiamo osservarla proprio per custodire le reliquie del santo del santo omonimo di san marco secondo grande stato stato regionale che nasce tra il 1300 e 1400 e educato di milano milano da sempre ha imboccato questa strategia politica l'espansione verso il contado la sottomissione di altri comuni e finalmente milano tra 1300 1400 riesce a centrare il proprio obiettivo e quindi a quello di signoreggiare su gran parte della lombardia non esattamente la lombardia attuale però come vedete nella cartina geografica buona parte della lombardia vedete il simbolo dei visconti c'è un'aquila e c'è un biscione che non si capisce se si stia mangiando o se stia vomitando quello miciattolo che tiene tra le fauci e a milano si succedettero diversi signori diverse famiglie inizialmente i della torre erano guelfi poi subentrano i visconti che all'inizio del quattordicesimo secolo con matteo visconti decidono di cambiare campo e di farsi ghibellini ecco perché sul loro simbolo abbiamo un'aquila che è tipicamente l'aquila imperiale e dall'altro lato invece un biscione che mangia o fagocita questa persona e il biscione è il simbolo tipico dei visconti che poi verrà ereditato da tutte le famiglie successive che prenderanno il potere a milano in primis gli sforza tanto è vero che ancora oggi quel simbolo lì il biscione che si mangia o sputa vomita quell'uomo è il simbolo di milano vedete ci sono diversi simboli legati alla città di milano che in modo più diretto o in modo più stilizzato ripresentano quel simbolo lì quello dei visconti originariamente era dei visconti il simbolo dell'alfa romeo eccolo qua è chiarissimo abbiamo la croce di san giorgio sfondo bianco e croce rossa che è la tipica croce di genova e di milano poi anche dell'inghilterra e qui abbiamo soprattutto il simbolo degli dei visconti il simbolo del biscione lo scudetto dell'inter squadra di milano ovviamente riporta lo stesso simbolo e anche il simbolo della fin invest o della media 7 vedete questo è il biscione stilizzato questa sarebbe la testa qui ci sarebbe l'occhio questo è il corpo una volta il simbolo era un po diverso il corpo proseguiva in maniera sinuosa verso il basso e questo sarebbe l'uomo fagocitato vomitato a seconda della prospettiva ecco andiamo avanti qui sempre a milano vedete il castello sforzesco e originariamente dei visconti poi ereditato dagli sforza riadattato riaggiornato però originariamente era il castello visconteo infatti potete vedere con questa fotografia d'angolo che proprio sul torrione d'angolo eccolo qui svetta il nostro simbolo dei visconti il biscione che sta mangiando fagocitando la persona e sotto vedete fr sf francesco sforza gli sforza saranno la famiglia che subentreranno ai visconti ma che ciò non di meno conserveranno i loro simboli il simbolo del biscione lo stesso dante cita la vipera che melanesi accampa mette in correlazione il nome di milano con il simbolo della vipera terzo grande stato che comincia a delinearsi tra il 1300 e il 1400 è la repubblica di firenze e formalmente sottomessa all'impero ma di fatto completamente autonoma venezia era completamente autonoma ducato di milano era di bellino e quindi legato all'impero però con un buon margine di autonomia la repubblica di firenze era praticamente autonoma ecco il simbolo di firenze come noto è il giglio probabilmente perché firenze venne venne fondata dai romani nel 59 avanti cristo durante le celebrazioni per festeggiare la nuova primavera e per cui la dea flora da cui florenzia e firenze un luogo poi in cui sappiamo la vegetazione rigogliosa ci sono molti fiori per cui probabilmente questa è l'origine del simbolo si vuole abbinare al nome firenze che ricorda la flora il simbolo del giglio molto presente nelle nei sobborghi di firenze e nel contesto circostante anche qui ovviamente dante non poteva non citare il giglio di firenze però su questo possiamo 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 proseguire quarto grande stato è lo stato della chiesa e il simbolo lo vedete è una tiara questa è la chiara o triregnum che dir si voglia caratterizzata per la successione di tre corone eccole qua una due tre e le due famose chiavi che rappresentano il potere delle chiavi potere delle chiavi che ha a che fare con il primato petrino cioè il fatto che pietro l'apostolo pietro fosse stato il primo degli apostoli indicato da gesù e quindi primo papa tutti i papi sono successori di pietro ecco il brano del vangelo è noto il vangelo di matteo e io ti dico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli infari non prevarranno contro di essa a te darò le chiavi eccolo lì il motivo del simbolo a te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli vedete che le chiavi sono una dorata e l'altra argentea quella dorata a che fare con il potere di legare le cose nel regno dei cieli mentre quella argentea a che fare con il potere di legare le cose sulla terra e legare o sciogliere naturalmente l'ultimo grande stato è quello vedete del meridione il regno di napoli ecco qui dobbiamo aprire una piccola parentesi vi ricordate la pace di calta bellotta del 1302 quando la sicilia finisce sotto l'orbita degli aragonesi mentre il mezzogiorno rimane sotto il dominio degli angioini gli angioini manterranno il dominio nel sud italia per ancora un secolo e mezzo fino al 1442 quando gli aragonesi di alfonso quinto alfonso quinto muoveranno guerra gli angioini e riusciranno a strappare loro tutto il mezzogiorno per cui dal 1442 in poi anche il regno di napoli diventa aragonese e quindi gli angioini vengono cacciati definitivamente dal sud italia con la pace di calta bellotta del 1302 dalla sicilia e nel 1442 con una successiva guerra anche dal regno di napoli sempre a beneficio degli degli aragonesi ecco notate il simbolo degli aragonesi abbiamo queste strisce rosse verticali 4 del simbolo dell'aquila simbolo dell'aquila rimanda il fatto che è un fatto tradizionale e cioè che uno dei più illustri imperatori federico secondo di svevia aveva posto la sua sede proprio nel regno di sicilia per cui l'aquila simbolo imperiale rimase legato a quelle terre di fatto però il regno di napoli era autonomo era o meglio era del tutto formalmente sottomesso al papa ma per una questione solamente di forma di fatto completamente autonomamente dominato dai prima dagli angioini e poi dagli aragonesi gli aragonesi infatti esportano i propri simboli che sono quelle quattro strisce verticali rosse su sfondo dorato ecco anche questo simbolo ha una storia interessante è il simbolo caratteristico dell'arragona e della catalogna perché tradizione vuole eccola qua tradizione vuole che nel nono secolo la penisola iberica era quasi completamente occupata dai musulmani dai mori e i musulmani stavano assediando barcellona ecco che goffredo il villoso il duca di barcellona da camp da da battaglia ai mori in campo aperto combatte valorosamente riesce a spingere i mori quindi a salvare la città di barcellona però a costo della vita era moribondo agonizzante sul campo di battaglia gli si avvicina il imperatore franco e intinge quattro dita nelle sue ferite e con le dita insanguinanti del sangue di lui di goffredo il villoso gli marca come dire gli gli striscia lo scudo dorato a indicare che goffredo il villoso aveva dato il proprio sangue per difendere barcellona in maniera valorosa eroica per cui ecco tradizione vuole forse anche mitologia vuole che questo scudo dorato di goffredo il villoso sia rimasto segnato con queste quattro dita sanguinanti dell'imperatore che aveva appunto intinto le proprie dita nel sangue del suo valoroso sottoposto da lì nasce la famosa segnera come vedete scritto qui la segnera e cioè la bandiera simbolo della ragona e di barcellona e ancora oggi la bandiera che caratterizza quelle regioni ed è la più antica bandiera d'europa quella che ha può dire che può vantare maggior tradizione alle proprie spalle questa che vedete è l'esemplare più antico conservato al museo di valencia del 1238 ecco piccola curiosità per i calciofili vedete che anche il barcellona che come noto è la capitale della catalonia e fa proprio quel simbolo nel simbolo del barcellona tra le altre cose vedete sfondo bianco e croce rossa la croce di san giorgio perché san giorgio era il patrono di della ragona e di gran parte degli spagnoli e poi vedete qui le bande verticali la cosiddetta seniera che sono sempre rigorosamente quattro perché quattro erano le dita dell'imperatore e in tinte nel sangue di goffredo il villoso e la stessa cosa vedete qui la fascia di capitano con quattro strisce rosse ecco questi simboli della ragona vengono esportati anche nel sud italia a partire dal 1442 quando gli aragonesi prenderanno possesso di quelle terre e ci chiamo un'ultima realtà regionale questa sarebbe la sesta e in effetti non è compresa tra le cinque grandi regioni italiane che vi ho appena citato perché di per sé l'origine francese cioè parliamo del ducato di savoia e il ducato di savoia nasce come realtà politica francese la savoia è una regione francese e i duca di savoia erano francesi e parlavano francese cominciano ad espandersi in piemonte quindi attraversando le alpi solo verso la fine del quattordicesimo secolo però per molti secoli rimangono ancorati alla realtà francofona non alla realtà italica ecco e per secoli rimarranno una realtà politica fondamentalmente autonoma che di volta in volta appoggiava o la francia o la spagna o l'impero a seconda della convenienza pertanto è giusto citarli in questo momento perché è una realtà politica che caratterizza la penisola italica però politicamente ripeto sono ancorati alla francia e non all'italia diventeranno poi protagonisti indiscussi della storia italiana quando per esempio unificheranno la penisola italica l'italia nasce grazie allo sforzo bellico di casa savoia che poi diventeranno i primi monarchi dello stato unitario italiano però di secoli dovranno passarne ancora molti ecco vedete che i colori di casa savoia sono tre quelli principali il bianco il rosso e anche l'azzurro vedete che qui ci sono degli spruzzi di azzurro un pochino qui al centro un po sui nastri all'apice ecco l'azzurro venne introdotto come colore significativo in casa savoia a seguito di una crociata siamo nel 14esimo secolo e un duca di savoia amedeo sesto parte per le crociate e volle far sventolare sulla nave che lo portava in terra santa anche una bandiera azzurra celeste in onore di maria per cui il colore blu è un colore mariano che poi al quale si affezionarono particolarmente sia lui che i suoi successori e che quindi entrò a buon diritto all'interno dei colori ufficiali della famiglia di casa savoia questo non lo diciamo per nulla ma perché c'è un legame interessante e cioè la nazionale italiana sapete che veste la casacca blu ecco azzurra meglio gli italiani sono anche chiamati gli azzurri perché l'azzurro l'azzurro non compare nel tricolore italiano cosa c'entra l'azzurro con l'italia è proprio questo è il motivo quando la nazionale italiana comincia a disputare le proprie prime partite siamo all'inizio del ventesimo secolo e l'italia era una monarchia e sul trono sedevano i savoia quindi in onora a casa savoia la nazionale italiana vestì il colore blu poi alla fine della seconda guerra mondiale i savoia dovettero andarsene ci fu un referendum che preferì la repubblica la monarchia però la tradizione rimase e gli azzurri continuarono a vestire d'azzurro ecco da citare anche e molto velocemente la città di trieste più o meno qui più o meno qui città di trieste proprio in questo più ecco più o meno qua proprio in questo in questo periodo verso la fine del quattordicesimo secolo decide di dedicarsi liberamente cioè di consegnarsi liberamente al sacro romano impero e per molti secoli trieste rimane una città imperiale ancorata di fatto al mondo germanofono fino alla prima guerra mondiale quando l'italia incamererà trento e trieste ecco questi sono gli stati che nascono diciamo a cavallo tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo ovviamente questi stati nascono a scapito di signorie precedenti che vengono fagocitate e fuse all'interno di questa realtà statale più ampia però immediatamente questi stati cominciano anche a guerreggiare tra di loro per strappare l'uno il territorio all'altro fondamentalmente per cercare ciascuno di affermarsi a scapito dell'altro e per tutti i primi decenni del quindicesimo secolo e ci fu una guerra fondamentalmente ininterrotta moltissime battaglie decine forse centinaia non ci addentriamo in una serie di meandri complicatissimi però diciamo che dall'inizio del 1400 fino al 1454 quindi più o meno per 40 anni diciamo 30 ecco 1410 al 54 più o meno ci furono una serie di guerre battaglie ininterrotte tra questi stati che fondamentalmente non portarono assolutamente a nulla perché dopo circa 30 anni di guerra e tutti questi stati gravavano in una situazione estremamente deficitaria da un punto di vista economico e da un punto di vista militare ecco da un punto di vista economico questi 30 40 anni di guerra ininterrotti e vedete qui dalla slide porta ad un calo significativo degli introiti qui li diamo in percentuale venezia perde circa un terzo dei propri introiti perché un po perché doveva far fronte a spese di guerra e un po perché tanto più si guerreggia tanto meno c'è la possibilità per il commercio di prosperare e quindi tanto maggiormente calano gli introiti le entrate nelle casse dello stato venezia perde circa un terzo dei propri introiti firenze più o meno la metà milano e napoli non lo sappiamo esattamente ma perdono ben oltre la metà dei propri introiti probabilmente le casse dello stato sia di milano che di napoli erano assolutamente vuote cioè rischiavano la bancarotta ecco questo enorme dispendio economico e di energie a cosa portò è fondamentalmente a nulla perché dopo 30 anni di guerre ripeto più o meno dal 1410 fino al 1454 e nessuno di questi cinque stati riuscì ad imporsi sugli altri cioè le forze militari erano più o meno paritetiche per cui per quanto si guerreggiasse lo status quo a livello geopolitico non cambiava ecco solo venezia in realtà avrebbe potuto realmente vincere la guerra se ci fosse stato uno stato con maggiori chance di imporsi sugli altri quello sarebbe stato sicuramente venezia tanto è vero che si racconta che i vari condottieri cioè i vari capitani militari molto importanti in questo periodo quasi sempre mercenari che venivano stipendiati da dai singoli stati per guidare milizie a volte pure mercenari contro gli altri stati ecco questi condottieri che si affrontavano sui campi di battaglia in questi decenni e sembra che si dicessero l'un l'altro di non ottenere troppe vittorie per venezia perché venezia era evidentemente la realtà politica più solida più forte e se sui campi di battaglia avesse ottenuto troppe vittorie venezia si sarebbe imposta su tutte le altre nazioni e avrebbe posto fine alla guerra ma ponendo fine alla guerra non ci sarebbe più stato lavoro e possibilità di ingaggio e di lauti guadagni per tutti i condottieri cioè per tutti i capitani che dovevano guidare le milizie perché costoro che lavoro facevano i mercenari se c'era la guerra guadagnavano altrimenti dovevano cercarsi un altro mestiere pertanto più durava la guerra più loro ci guadagnavano perché potevano ottenere possibilità di ingaggi a destra e a manca per cui venezia non doveva imporsi con troppa facilità su tutti gli altri stati e c'è anche da dire un'altra cosa che se venezia avrebbe potuto imporsi su tutti gli altri stati se non avesse dovuto contemporaneamente far fronte al pericolo turco vediamo eccolo qui vediamo da questa cartina che mentre le signorie andavano espandendosi mentre le signorie cominciavano a diventare stati regionali tra il 1003 e il 1004 e mentre gli stati regionali cominciavano a guerreggiare tra di loro per affermarsi l'uno su tutti gli altri contemporaneamente nella regione anatolica quindi questa qui anatolica europea diciamo e balcanica questa regione qui andavano espandendosi i turchi ottomani e venezia venne coinvolta nel tentativo di tamponare questa espansione e partecipò a diverse battaglie su queste non ci soffermiamo però le ho segnate sulla cartina quattro grandi battaglie che poi sarebbero queste qui che vedete sotto quattro grandi battaglie e in cui vissero sempre i turchi tra l'altro alle quali partecipò soprattutto con la propria flotta venezia la quale quindi non poteva investire tutte le proprie energie tutte le proprie forze militari ed economiche in italia proprio perché simultaneamente doveva far fronte alla minaccia turca che stava avanzando sempre più profondamente in europa attraverso la regione balcanica finalmente i cinque stati poi vedete in realtà ce ne sono anche una serie di altri ducato di mantova ferrara lucca però sono realtà molto più piccole sulle quali possiamo tergiversare i protagonisti politici erano quei cinque stati finalmente nel 1454 dopo trent'anni forse anche di più di guerre i cinque stati decidono di sedersi ad un tavolo e di sottoscrivere la pace la famosa pace di lodi è abbastanza curioso e vedere che nel periodo in cui splendevano gli ideali dell'umanesimo del rinascimento la pace nazionale non venne raggiunta sulla base di chissà quale ideale ma fondamentalmente sulla base di motivi molto più pragmatici e concreti e cioè come dicevamo l'impotenza militare il fatto che nessun esercito riuscisse ad imporsi su tutti gli altri e il dissesto economico il fatto che le casse cominciavano ad essere vuote per venezia magari no ma per molti altri stati sì e poi per una singolare congiuntura di politica internazionale perché nel 1453 finisce anche la guerra dei cent'anni quella che opponeva francesi e inglesi con la vittoria dei francesi gli inglesi devono abbandonare la francia e devono tornarsene definitivamente in inghilterra questo per gli stati italiani era un bel problema perché perché valeva il principio del divide et impera cioè se il mio vicino di casa o se i miei sottoposti sono divisi in continue perenne e perenni lotte endogene interne finché si fanno la guerra tra di loro non non verranno non saranno aggressivi nei miei confronti per cui fin tanto che i francesi facevano la lotta con gli inglesi gli stati italiani non dovevano temere grandi minacce provenienti da oltre alpe chiaro che adesso i francesi avevano vinto nel 1454 la guerra dei cent'anni era finita la francia comincia a consolidarsi ad affermarsi come grande stato e avrebbe benissimo potuto rappresentare una minaccia per l'italia un stato solido unito privo di nemici interni come erano gli inglesi fino al 1454 diventa uno stato molto più potente molto più minaccioso e infatti nel giro di 50 anni poi i francesi caleranno e come in italia e facendo fondamentalmente il bello il brutto tempo ecco questa minaccia era ben chiara ai politici italiani e pertanto era il caso di mettere da parte le rivalità locali tra milano venezia firenze e così via e quantomeno presentarsi se non come nazioni unita ma come insieme di stati pronti a coalizzarsi di fronte alla minaccia esterna quella eventualmente francese ma non ci fu solo il problema della francia perché simultaneamente quasi simultaneamente ci fu un altro grandissimo evento che marcò questo questo periodo e direi addirittura marcò la storia universale e cioè la caduta di costantinopoli costantinopoli cade nel maggio del 1453 venne espugnata in maniera sanguinolenta e spietata dai turchi e questo rappresentò un contraccolpo gravissimo per venezia perché costantinopoli era una delle grandi basi commerciali alle quali venezia si appoggiava e viceversa i turchi dimostrano di essere una grande potenza coloro che affossarono l'impero quello che rimaneva dire il vero dell'impero romano d'oriente per cui da un lato i turchi che si consacrano definitivamente come grande potenza mediterranea dall'altra la caduta di costantinopoli ecco questo fatto che poi concide nello stesso fatto la caduta di costantinopoli spinse venezia ad affrettarsi a richiedere la pace perché i problemi cominciavano ad essere ben altri commerci di venezia potevano essere messi in discussione da questa nuova presenza sul mediterraneo la presenza dei turchi ecco ma non solo tutti gli stati italiani erano ben consapevoli che il turco così si chiamava il singolare il turco inizialmente si rappresentava una minaccia diretta per venezia ma indirettamente per l'italia tutta perché ecco torno indietro vedete questa era l'espansione dei turchi questa qui in marrone era l'espansione dei turchi nel 1451 i turchi erano veramente ad un tiro di schioppo dalla penisola italica infatti da lì a poco i turchi prenderanno otranto certando di penetrare in italia nel 1480 e la minaccia turca era una minaccia da prendere seriamente in considerazione per cui o per paura dei francesi o per paura dei turchi ma in ogni caso era una scelta saggia quella di mettere da parte le armi e di presentarsi gli stati italiani uniti di fronte a qualsiasi minaccia straniera ecco questa è la cartina geografica che nasce che viene che viene sancita con la pace di lodi vedete che si possono distinguere notamente cinque grandi stati venezia milano firenze lo stato della chiesa e il regno di napoli i cui confini furono definiti fondamentalmente dallo status quo cioè a seconda di ciò che le varie armate i vari eserciti avevano conquistato quei confini quei territori poi vennero anche formalmente sanciti e definiti confermati nella pace di lodi cioè ogni territorio riuscì a incamerare nella pace di lodi ogni scusate regione riuscì a incamerare quei territori che aveva già conquistato con le proprie armate ecco da notare che i confini dello stato veneto di venezia che sono questi qui che vedete sulla slide e che vi ingrandisco in questo ulteriore riquadro quei confini sono quelli che più o meno rimangono invariati per per tre secoli fino a quando venezia non cadrà ad opera di napoleone nel 1797 vedete che venezia e si espande non solo in veneto sarà proprio venezia dare unità politica al veneto ma si espande anche in una buona fascia della lombardia soprattutto brescia e bergamo che per secoli rimangono sotto il dominio veneziano ma venezia si espande anche nel friuli venezia giulia e poi già da tempo aveva tutti i suoi possedimenti sull'altro lato dell'adriatico per cui diventa uno stato estremamente forte florido e uno è lo stato più esteso in italia tanto è vero che vedete nei decenni successivi in una situazione di pace perché la pace di lodi fu efficace garantì una situazione di armonia per circa 50 anni un po' 40 e in una situazione di pace vedete che queste erano le entrate annue dei nostri cinque stati e di gran lunga le entrate di venezia superano le entrate dei suoi dei suoi rivali o dei suoi concorrenti quella cifra lì 1,2 ha a che fare significa milioni di ducati ma al di là della cifra assoluto ci interessa il rapporto vedete che venezia poteva contare su entrate doppie rispetto a napoli e rispetto a milano e scusate successo qualcosa e addirittura di entrate triple rispetto a firenze e a roma per cui sicuramente venezia dopo la pace di lodi diventa lo stato più importante più potente lo stato contro il quale poi si schiereranno anche tutti gli altri stati in una guerra che scoprirà successivamente la guerra di ferrara non ci interessa ma per dire che per mantenere l'equilibrio che era stato sancito con la pace di lodi allo scoppio dell'unica guerra praticamente successiva alla pace di lodi le altre nazioni si gli altri stati regioni le altre nazioni si coalizzeranno contro venezia stessa ecco un'ultima cosa per garantire la l'efficacia della pace di lodi venne istituita la lega italica l'anno successivo nel 1455 la lega italica era un organismo militare composto dagli eserciti o da parte degli eserciti di tutti e cinque gli stati italiani lo scopo era proprio quello di preservare la pace e l'armonia definiti con la pace di lodi se uno di questi cinque stati non avesse rispettato le clausole sancite a lodi gli altri quattro stati si sarebbero coalizzati in virtù della lega italica contro lo stato reo di non aver rispettato i patti sottoscritti nel 1454 a lodi ecco questa lega italica e venne affidata ad uno dei comandanti dei condottieri più noti del tempo che era federico di montefeltro ecco qui e lo vedete nell'immagine è un'immagine molto famosa di piero della francesca federico da montefeltro duca di urbino famoso perché ha questo naso piuttosto caratteristico e per il fatto di essere perché gli era stato rotto al naso e per il fatto di essere raffigurato sempre di profilo perché l'altro occhio gli mancava perché lo aveva perso e lo aveva perso in cadendo malamente da cavallo ecco e quindi con la pace di lodi l'italia gode di un periodo di stabilità la lega italica nel 1455 garantisce militarmente questa unità e c'è da dire che questa soluzione politica tutto sommato è efficace perché al di là di un episodio la cosiddetta guerra di ferrara 1482 in cui tutti gli stati si qualizzarono contro venezia al di là di quell'episodio e gli stati italiani finalmente trovarono un po' di pace dopo secoli di guerre intestine ininterrotte prima tra i comuni poi tra le signorie poi tra gli stati regionali stessi ecco un'ultima cosa durante quella guerra di ferrara 1482 su cui non ci soffermiamo e venezia certo dovette affrontare la coalizione degli altri quattro stati uniti contro di lei ma ciò nonostante non riuscì a ottenere tutto ciò che si era prefissata ma ciò nonostante riuscì ad ottenere rovigo e il polesine rovigo e la regione circostante il polesine entrano a far parte del veneto se volete della repubblica della serenissima di venezia proprio nel 1482 l'ultima l'ultima realtà regionale veneta ad entrare a far parte del veneto prima orbitavano nell'orizzonte politico dei degli estensi di ferrara nel 1482 diventano veneti anche loro bene vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento